Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Ragazzi come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram per poter avere a che fare con me, scrivermi in direct, ma soprattutto se vi va potete anche menzionarmi mentre guardate i miei video. Detto questo, sigla, e poi ci diamo dentro col video. Ragazzi qualcuno di voi mi ha chiesto di informarmi su una persona davvero molto molto particolare. E ovviamente mi sto riferendo a un fuori di melone seriale chiamato Dennis Nielsen. E' stato soprannominato l'uomo di Muswell Hill, in quanto quasi tutti i suoi crimini sono avvenuti proprio nel suo appartamento, collocata nel distretto di Muswell Hill, per l'appunto, al nord di Londra. Dennis è un fuori di melone davvero particolare, tanto che nel 1989 la regista Fiona Louise fa un film proprio basato sulla storia dell'uomo, intitolato Cold Light of Day. La pellicola vede Bob Flagg nei panni di Dennis Nielsen. Inoltre è stata resa ufficiale l'uscita di una miniserie, divisa in tre parti, intitolata semplicemente Daze, basata su un libro scritto da Brian Master. La miniserie racconterà la vera storia di Dennis Nielsen, conosciuto anche come Daze, e sarà interpretato da niente po' di meno che David Tennant. David Tennant è un attore che ricordo con molto piacere se penso a Broadchurch. Comunque come al solito oggi vi andrò a parlare di Dennis Nielsen, partendo come al solito dall'inizio della sua storia. Dennis nasce in Scozia, a Fraserburgh, il 23 novembre del 1945, da Betty White e Olaf Nielsen. Olaf è un marinaio di origine norvegese che ha combattuto contro l'occupazione tedesca. Olaf e Betty convolano a nozze il 2 maggio del 1942, ma per l'appunto Olaf è spesso via per adempiere ai suoi doveri da soldato. E quel poco di tempo che Olaf passa in casa basta per mettere al mondo tre pargoletti. Olaf Junior, Dennis e infine Silvia. Fino subito in realtà il matrimonio tra Betty e Olaf si dimostra fallimentare, in quanto l'uomo è davvero poco tempo in casa e per di più ha anche seri problemi con l'alcol. Il matrimonio di Olaf e Betty arriva al capolinea solo 7 anni dopo la loro unione. A questo punto che cosa succede? Betty prende Dennis, in quel momento ha solo 4 anni, per andare a vivere con lui insieme ai suoi genitori, ossia i nonni materni di Dennis. Dennis quindi vive la sua infanzia con sua madre e i suoi nonni, e si affeziona in modo molto molto importante al suo nonno, Andrew White. In questo caso possiamo affermare che Dennis abbia avuto in tutta la vita una sola persona a cui si sia realmente affezionato e con cui abbia creato un legame realmente profondo. Quella persona è suo nonno. Il nonno lo porta spesso a fare lunghe passeggiate sul porto, lo prende in spalle e lo porta attraverso la spiaggia fino ad una cittadina vicina, ossia in Veralky. L'uomo inoltre raccontava al bambino tantissime storie riguardo al mare e Dennis lo ascoltava sempre ammirandolo tantissimo. Tra le braccia di suo nonno il ragazzino era così tanto tranquillo che molte volte si addormentava. Andrew dal canto suo è sicuramente un uomo anziano con una rigida moralità, ma per Dennis è l'unico e vero punto di riferimento. Non è un caso che Dennis sia affezionato all'unica figura maschile che abbia mai conosciuto davvero. Dennis vede il nonno lasciare casa principalmente per andare a pescare. Il punto è che Andrew a pescare ci va sia sotto la pioggia battente che sotto un forte vento. Quindi fino a quando non rientra a casa in Dennis si crea un vero e proprio vuoto che si ricorda solo quando il nonno torna a casa. Purtroppo però Andrew viene a mancare quando Dennis ha solo sei anni. Ed è proprio questo evento a creare un vero e proprio vuoto nella vita del bambino. Dennis già poteva sentire questo vuoto quando vedeva il nonno uscire. Ma ora che non c'è più il nonno quel vuoto non va via, rimani lì. Oltre al grande dolore per averlo perso, Dennis viene anche portato da sua madre, a sua insaputa, a vedere proprio il corpo del nonno. Questo è un momento molto importante per Dennis perché si crea un vero e proprio trauma. Questo trauma anni dopo Dennis lo definisce come la sua morte emozionale. Questo fatto l'ha condizionato per il resto della sua vita. Due anni dopo, quando Dennis ha otto anni, Betty, sua madre, si risposa e dal nuovo matrimonio mette al mondo quattro figli. È proprio in questo periodo che Dennis inizia a distaccarsi dalla realtà, quella realtà che non gli piace, che lo fa stare a disagio. Il tempo passa e Dennis diventa sempre più chiuso. Dopo la morte del nonno, quella famiglia non la sente più sua. Dennis è un vero e proprio solitario ed è questo che lo differenzia da tutti gli altri fuori di melone e seriali. Di solito iniziano a mostrare segni di aggressività fin dall'adolescenza. Mentre Dennis non dà alcun segnale. Non è crudele contro gli animali? Non è crudele contro i suoi coetanei? L'unica caratteristica del suo carattere è per l'appunto il completo isolamento. Tanto che da adolescente si rende conto di essere omosessuale. Ma pur provando attrazione verso i ragazzi, non aveva mai avuto alcuna esperienza bricconcella. Arriva il 1961 e Dennis si arruola nell'esercito con la mansione di cuoco. È in questo modo che impara un metodo per tagliare la carne senza sforzo. E gli sarà utile in futuro. Durante il periodo di reclutamento, Dennis si innamora di Brian Muster. Un suo commilitone, ma ben presto lascia perdere, perché non è corrisposto. Arriviamo al 1962, quando Dennis si congeda per partecipare a dei corsi per diventare agente di polizia. E ragazzi e ragazze, il motivo di questa scelta non è affatto casuale. Dennis è letteralmente affascinato dai corpi senza vita e cerca di partecipare a tutte le autopsie. Dopo un anno però il ragazzo si rende conto che neanche quello è il lavoro per lui. Così diventa addetto alle selezioni del personale per un'azienda. È proprio grazie alla sua mansione che incontra David Painter, un uomo che per l'appunto è semplicemente in cerca di lavoro. Dennis lo invita al suo appartamento e fanno delle cose malandrine assieme. Solo che il giorno dopo, David a risveglio becca Dennis fargli delle foto. David Painter sporge denuncia verso Dennis. Dennis subisce anche un breve interrogatorio, ma poi dopo viene rilasciato. Arriviamo al 1965, quando Dennis si trasferisce in un appartamento al pian terreno con giardino al 195 di Melrose Place a nord di Londra. Inizialmente convive con un uomo, David Gallaghan, un amico che Dennis ha conosciuto al di fuori di un pub e lo fa per ben due anni. Dopodiché, passati due anni, a causa di incomprensioni che hanno portato problemi di convivenza ad entrambi, Dennis ordina a David di andarsene e rimane da solo. A quel punto però si rende conto che lui c'è un grande timore che lo insegue praticamente da tutta la vita, ossia la paura di rimanere solo. Nei primi periodi di assenza di David Gallaghan, Dennis prova a colmare il vuoto presente nella sua vita buttandosi a capofitto nel lavoro, bevendo sempre di più e alienandosi per ore intere davanti alla televisione. Arriva però al 1978 e Dennis inizia a colpire. La prima vittima, Dennis la incontra nel dicembre del 1978. Stephen Holmes è un ragazzino che Dennis incontra in un pub. Stephen era in quel pub perché aveva tentato di comprare degli alcolici, senza però riuscirci. Stando a quello che dice Dennis, prima di uscire da casa quella sera, aveva davvero bevuto tutto il giorno, tanto. E non sapeva se uscire in cerca di compagnia per la serata. Quando si decide, approccia proprio Stephen Holmes. Lo invita a casa sua offrendogli dell'alcol, quello che Stephen non era riuscito a comprare nel pub. Stephen quindi che cosa fa? Accetta l'invito a casa di Dennis. I due quindi cosa fanno? Vanno a casa di Dennis, bevono ancora un po' e poi si addormentano. Dennis sostiene che la mattina dopo si è svegliato ed ha avuto timore, a sua volta, di svegliare Stephen. Perché se si fosse svegliato, se ne sarebbe andato? Così, mentre guarda il ragazzo dormire, Dennis decide che Stephen avrebbe passato con lui il capodanno. Che lo volesse o meno. Dennis quindi prende una cravatta e lo strangola nel sonno. Fa cose briconcele col corpo, lo lava e poi lo mette sotto le assi del suo pavimento. Il corpo rimane lì per ben otto mesi. Prima che Dennis decida di cremarlo nel rete del suo giardino. L'11 agosto del 1979. Arriviamo all'11 ottobre del 1979. Dennis tenta di far fuori un altro ragazzo, Andrew Ho. L'ha conosciuto anche lui in un pub e l'ha portato a casa sua con le solite propostine malandrine. Ma proprio quando sono insieme nell'appartamento di Dennis, l'uomo cerca di strangolare Andrew. Proprio durante, peraltro, un momento briconcello. Ed è probabilmente per questo motivo che Andrew è riuscito a scappare. Andrew va dalla polizia a raccontare l'accaduto. E quindi, di nuovo, la polizia interroga Dennis. Ma siccome Andrew decide di non sporgere denuncia, l'uomo la passa liscia. Di nuovo. Arriviamo a due mesi dopo. È il 3 dicembre del 1979. E Dennis conosce uno studente canadese di 23 anni di nome Kenneth Ockinder. Lui è a Londra per far visita dei parenti. È dell'ora di pranzo. I due, ovviamente, cosa fanno? Bevono un monto in un pub, si fanno un giro per Londra e poi finiscono a casa di Dennis. In quel momento Dennis è così felice con Kenneth e non sopporta che il giorno dopo il ragazzo debba ripartire per il Canada. E infatti Kenneth non riparte perché viene strangolato con delle cuffie dello stereo. Dopodiché Dennis lo prende, lo lava e se lo rinfila a letto accarezzandoselo un pochino. Però la mattina dopo Dennis deve andare a lavoro e quindi cosa decide di fare? Decide di mettere Kenneth nell'armadio. A suo ritorno recupera Kenneth e gli scatta qualche foto e poi anche il suo corpo finisce sotto le assi del pavimento. Anche se Dennis sostiene che spesso lo tirava fuori proprio per parlargli e inoltre sostiene che spesso guardavano insieme la televisione. Arriviamo al 17 maggio del 1980 e Dennis colpisce di nuovo. Marilyn Duffy è uno studente di Birkenhead e è giunto a Londra in autostop di nascosto dai suoi genitori. Quando Dennis lo trova sta a stazione di Houston, una stazione ferroviaria sita nel borgo londinese di Camden. Dennis mentre torna da una riunione sindacale trova il ragazzo che è davvero esausto ed affamato. Quindi quando Dennis gli propone di andare da lui a mangiare e a dormire, il ragazzo non è che ci metta molto ad accettare. D'altronde aveva fame e voleva dormire. Appena Marilyn si addormenta, Dennis colpisce sempre nello stesso modo. Lo strangola, lo lava, ci giochicchia un pochino per qualche tempo, ci fa cose bricconciali e addirittura si complimenta di quanto il suo corpo sia giovane e bello. Marilyn rimane nell'armadio per due giorni prima di essere riposto sotto le assi del pavimento. Prima della fine del 1980, Dennis inizia a colpire sempre più di frequente. Fra da cinque vittime, purtroppo, di queste cinque persone, viene solo identificato William David Sutherland. Il punto è che oramai i corpi sono tutti in stato avanzato di decomposizione. Solo sotto il pavimento iniziano ad attirare insetti, emanano un odore parecchio forte. Ma per ovviare al problema, Dennis spruzza grandi quantità di spray insetticida sia in casa che sotto le assi del pavimento. Lo fa per giorni interi, ma le mosche non vanno via comunque. Solo alla fine del 1980, l'uomo si decide di cremare quei dannati corpi nel giardino. E per mascherare l'odore di carne bruciata, Dennis da fuoco contemporaneamente anche ad una gomma d'auto. Arriviamo al 4 gennaio del 1981, quando Dennis inaugura l'anno nuovo incontrando un uomo purtroppo non identificato, descritto dagli investigatori come un ragazzo di circa 20 anni con gli occhi azzurri. Dennis, come al solito, lo incontra in un pub e riesce a portarselo a casa. Fa come al solito il suo rituale, poi di nuovo lo infila sotto le assi del pavimento. La stessa fine tocca ad altri due soggetti non identificati purtroppo. L'ultima vittima di Benrose Avenue è il 23enne Malcolm Barlow, un vagabondo che Dennis aveva notato a girarsi nei pressi di casa sua. È il 17 settembre del 1981, quando Dennis nota che Malcolm sta male e quindi chiama un'ambulanza che lo porta in ospedale. Il giorno dopo Malcolm viene dimesso dall'ospedale e chiaramente vuole ringraziare Dennis. Di conseguenza torna a casa sua e Dennis ovviamente, una volta averlo trovato alla porta, lo imita ad entrare. Malcolm si assoppisce sul divano e Dennis lo fa fuori una mattina dopo. Però a un certo punto succede una cosa e succede a metà del 1981. Il padrone di casa di Dennis gli fa sapere che ha deciso di ristrutturare tutto lo stabile e quindi Dennis deve levare le tende. Inizialmente l'uomo è alquanto contrariato, poi però accetta di liberare i vari locali dietro un compenso di mille sterline. Il 5 ottobre del 1981, Dennis trasloca quindi in un attico nel distretto di Moswell Hill, nel nord di Londra. A questo punto la situazione di Dennis cambia. È in un attico quindi niente più corpi sotto il pavimento, ma soprattutto Dennis non può raggiungere giardino. Quindi per quasi due mesi tutte le persone che Dennis attira a casa sua non subiscono alcuna aggressione e tornano a casa loro. Fino ad arrivare al novembre del 1982, Dennis fa la conoscenza del 23enne John Howlett mentre beve in un pub, tanto per cambiare. John Howlett viene invitato a casa di Dennis con la promessa di farsi un'ulteriore bevuta. Arrivati a casa i due continuano a bere e guardano film in tv, fino a quando il ragazzo non va nella camera da letto di Dennis e non collassa totalmente nel suo letto. Un'ora dopo Dennis si rende conto che non riesce a svegliare il ragazzo e quindi decide di levarselo dai piedi, di farlo fuori. Ma, in una coincidenza oserei dire assurda, il ragazzo si sveglia inaspettatamente proprio in quel momento, beccando Dennis che tenta di strangolarlo. Colui a uscire vincente ovviamente da questo scontro è Dennis, ma per oltre una settimana l'uomo porta sul collo i chiari segni della collutazione avvenuta col ragazzo. Mentre, in questo caso, a differenza delle altre volte, il corpo del ragazzo viene dissezionato e buttato nel gabinetto. Arriviamo a maggio del 1982. Dennis conosce Carl Stotter, un ragazzo omosessuale di 21 anni che, indovinate, esatto, beve una birra in un pub a Camden. Dennis attacca bottone con Carl, scoprendo che il ragazzo è triste per la fine di una storia d'amore. Quindi Dennis invita Carl nel suo appartamento, promettendogli di non avere alcuna intenzione malandrina. Voleva solamente parlare un po' con lui per cercare di tirargli un po' sul morale. Anche Carl viene strangolato nel sonno, però qua succede qualcosa di molto molto strano. Dennis era convinto di averlo freddato, però si rende conto poco dopo che in realtà Carl è ancora vivo. Decide quindi di rianimarlo. Gli strofina gli arti, il petto per aumentare la circolazione sanguigna. Lo copre addirittura con una coperta per tenerlo al caldo e poi lo porta a letto. Quando Carl riprende conoscenza, Dennis gli racconta che si è strangolato da solo con la chiusura di un sacco a pelo, ma che lui è riuscito a rianimarlo. Nei due giorni successivi Carl viene letteralmente accudito da Dennis. Lo fa rimettere in forza e poi lo accompagna a una stazione ferroviaria vicina. Lo saluta dicendogli che spera di rivederlo in futuro. Dopo questo episodio, oserei dire di gran lunga singolare, è il turno di Graham Allen, di 27 anni. Dennis lo incontra mentre il ragazzo sta cercando di prendere un taxi. Gli offre un passaggio e lo invita a mangiare a casa sua. E decide di freddarlo mentre mangia un omelette. Anche il corpo di questa vittima viene sezionata e gettata nel gabinetto. Arriva il 26 gennaio del 1983 e l'ultima vittima di Dennis è Stephen Sinclair. A quanto pare l'uomo è dipendente dalle sostanzine particolari e quindi Dennis lo convince a salire a casa sua, nel suo appartamento. Stephen fa uso di quella sostanza e poi crolla sulla poltrona. Come al solito i suoi resti finiscono nel gabinetto, come tutte le vittime che sono venute a mancare in quella casa. Ed è stato proprio questo il suo grave errore. I vicini si lamentano in continuazione dell'ordore che proviene dagli scarichi. Fa davvero schifo e nauseabondo. Il 4 febbraio del 1983, quindi è proprio lo stesso Dennis, a scrivere una lettera di protesta all'agenzia immobiliare proprietaria dello stabile, lamentandosi delle tubature sicuramente otturate. Dennis dice che oramai la situazione è insostenibile non solo per lui, ma anche per tutti gli altri residenti del palazzo. Ed è proprio per questo che un impiegato, Michael Cutran, risponde alle lamentele riguardo alle tubature condominali inviate da Dennis a nome di tutti i condomini. È l'8 febbraio del 1983, quando Michael Cutran si reca per una verifica presso l'abitazione di Dennis. Aprendo una tubatura di scollo in un lato della casa, Michael Cutran scopre che il tubo era otturato da delle sostanze simili a della carne e da numerose piccole ossa di origine sconosciuta. Quindi Michael fa rapporto al suo superiore, Gary Wheeler, spiegando per l'appunto la situazione. Gary, insieme a Michael, decidono di fare un sopralluogo il mattino successivo. Però, prima di andare via, Michael Cutran si mette proprio a discutere con lo stesso Dennis e con un suo vicino, ossia G. Malcock, di quanto era simile alla carne la sostanza che otturava i tubi. Dennis a questo punto commenta con queste parole. Beh, a quanto pare qualcuno ha buttato nello scarico parecchie cene da KFC. Per chi non lo sapesse, ma credo che sia arrivato in Italia e non solo ad Arese, la KFC è una catena statunitense di fast food specializzata in pollo fritto. Arriva quindi il 9 febbraio del 1983. Sono le 7 e mezza di mattina quando Michael e il suo superiore, Gary, tornano al domicilio di Dennis. Però c'è qualcosa che non va, perché controllando la tubatura della giornata prima, scoprono che è stata pulita. Questa cosa ovviamente l'insospettisce parecchio e quindi controllano anche altri tubi. E Michael con Gary trova in un altro tubo altri pezzi di carne con altrettante piccole ossa. Quindi cosa fanno? Chiamano la polizia che dopo un'ispezione più profonda trova altri pezzi di carne che vengono portati all'obitorio di Horseney, un quartiere nell'area nord di Londra. Qui il patologo David Bowen conferma che i resti trovati in quei tubi sono umani. Il punto è che le tubature intasate provengono proprio dall'attico di Dennis Nielsen. E quando i vicini lo comunicano alla polizia, l'ispettore Peter Jay e altri due colleghi attendono fuori dal palazzo che Dennis torni dal lavoro. Al suo ritorno a casa, Peter Jay gli comunica che devono fare un controllo nel suo appartamento per quanto riguarda le tubature. E Dennis ha anche il coraggio di dimostrarsi sorpreso, domanda come mai la polizia si è interessata alle sue tubature. A quel punto l'ispettore Jay invita l'uomo a salire in casa per parlare della situazione in modo più dettagliato. I tre agenti appena mettono piede in casa di Dennis sentono un forte odore di putrefazione. Dennis domanda nuovamente alla polizia perché mai siano interessate alle sue tubature. E a quel punto lo informano che l'incasamento delle tubature sia stato causato da carne, sì, ma non di pollo. Umana. Inizialmente Dennis si mostra scioccato ed incredulo. Ma l'ispettore Jay non si fa intimorire e chiede a Dennis dove si trova il resto del corpo. Dennis a questo punto risponde freddamente che avrebbero potuto trovarlo in varie buste di plastica nel guardaroba. Gli agenti a questo punto tentano di tagliare corto, chiedendo a Dennis di dire se erano presenti altri pezzi di carne in casa. Ma Dennis risponde. È una lunga storia, risale a molto tempo fa. Vi dirò tutto perché voglio togliermi questo peso, ma non qui, alla stazione di polizia. Dennis viene quindi arrestato con l'accusa di omicidio e messo in custodia. Gli agenti chiedono a Dennis se i resti rinvenuti appartenessero a una o più persone. L'uomo, guardando fuori dal finestrino, risponde freddamente. 15 o 16, a partire dal 1978. La stessa sera la polizia e il patologo forense Brown tornano a casa di Dennis e trovano altre buste di plastica con dentro vari resti che vengono, anche quelli portati in obitorio ovviamente. Ma arriviamo al 10 febbraio perché Dennis fa una confessione, sostenendo che ci sono altri resti nel suo appartamento oltre a quelli già rinvenuti. L'uomo sostiene che dal dicembre del 1978 aveva freddato 12 o 13 uomini nel suo vecchio appartamento. Al 195 di Merrose Avenue, lo stesso giorno quindi Dennis conduce la polizia a Merrose Avenue e i poliziotti che ispezionano il giardino trovano oltre mille frammenti di ossa. Michael Catlin, colui che era intervenuto per le lamentele sulle tubature condominali, il 10 febbraio contatta il Daily Mirror, informando il giornale della vicenda che quindi ha avuto parecchio risonanza mediatica. L'11 febbraio i giornalisti del Daily Mirror ottengono alcune foto di Dennis proprio da sua madre, Betty. Il 12 febbraio quelle foto sono in prima pagina. Ma torniamo un attimo all'11 febbraio perché inizialmente Dennis viene accusato per l'omicidio di Stephen Sinclair, la sua ultima vittima e quindi in serata inizia l'interrogatorio. Dennis nel suo interrogatorio con la polizia descrive il suo modus operandi, spiegando che anche dopo aver strangolato le proprie vittime le lavava, le vestiva e aveva a che fare con loro come se la persona fosse ancora in vita. Dennis sostiene che tutti gli oggetti delle vittime venivano distrutti dopo il rituale del lavaggio. Inoltre in molte occasioni Dennis metteva questi corpi sul letto o ancora su una poltrona, chiacchierava con loro e ci guardava pure la televisione. I corpi Dennis in realtà non li conservava per chissà che motivo. La verità è che l'uomo non voleva separarsi da loro. Ha spiegato inoltre che per le parti del corpo interne non poteva più comportarsi come quando abitava a Merrose Avenue. Quindi il fatto di buttarli nel gabinetto era una questione prettamente pratica. Ed è proprio questo atto che, come sapete, gli costa la cattura. Dennis nonostante tutto sottolinea che non trae alcun godimento nel togliere la vita a qualcuno. Lo faceva semplicemente per non essere solo. Terminato l'interrogatorio, Dennis viene ufficialmente incriminato per l'omicidio di Stephen Sinclair. Viene trasferito in prigione a Brixton come detenuto in attesa di giudizio. Secondo le affermazioni di Dennis, il suo stato d'animo nel periodo passato in carcere in attesa del processo oscilla tra rassegnazione e sollievo. Il 26 maggio l'uomo viene incriminato per sei imputazioni di omicidio e per due imputazioni di tentato omicidio. Arriviamo al 24 ottobre del 1983. Dennis Nielsen viene processato ma si dichiara non colpevole. In tribunale la disputa principale tra il procuratore e il difensore non è tanto se Dennis abbia ucciso, ma il suo stato d'animo prima, durante e dopo l'evento. Il legale dell'accusa, Alan Green, sostiene che Dennis era sano come un pesce, ma soprattutto è in pieno controllo delle sue azioni. Quindi Alan Green sostiene che tutti gli omicidi erano premeditati. Il consulente legale per la difesa, invece, Ivan Lawrence, sostiene che Dennis soffriva di una specie di sensibilità ridotta che lo rendeva incapace di formare nella sua testa la vera e propria intenzione di commettere quell'atto atroce. Alla fine di tutto questo patatrac viene chiamato il dottor Bowden a testimoniare, dichiarando che nonostante abbia trovato Dennis in senso colloquiale decisamente anormale, aveva concluso che comunque l'uomo era un gran bel manipolatore. Era in grado di stabilire relazioni con le persone. Ma si era trovato nella condizione di oggettivarle. Il dottor Bowden, quindi, sostiene che Dennis non soffra di alcuna malattia mentale. Il 4 novembre del 1983, Dennis Nielsen viene dichiarato colpevole e condannato all'ergastolo. Infine, Dennis Nielsen è venuto a mancare il 12 maggio del 2018 per un'embolia polmonare. Detto questo ragazzi, ho finito di sproloquare in questo video. Spero vivamente che questa storia possa essere stata di vostro gradimento. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Vi mando! Un bacione, mi raccomando fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!